Aurora Ramazzotti contrattacca le critiche ricevute per una foto nuda sotto una doccia all'aperto pubblicata sui suoi social. Nonostante l'influencer sia spesso al centro di dibattiti per le sue scelte sui social, questa volta ha ricevuto particolari rimproveri per il suo scatto audace. «È una questione di classe ed eleganza», ha osservato un utente, mentre un altro ha aggiunto «sei una madre, dovresti vestirti». Tuttavia, la figlia di Michelle Hunziker ha deciso di rispondere. Nel mezzo di una serie di foto estive che Aurora ha condiviso, quella provocatoria ha suscitato il maggior clamore. Molti hanno elogiato la sua audacia, ma alcuni non hanno gradito. Aurora, tuttavia, ha dichiarato di aver condiviso quella specifica foto con l'intenzione di provocare reazioni in alcuni. Ha poi risposto al suo stesso post con la gif di un uomo che gusta popcorn, prevedendo le reazioni che avrebbe ricevuto. «Sinceramente, non me ne importa, ha affermato la madre di Cesare. Una seguace le ha inviato un messaggio privato che diceva, hai tutta la libertà, ma la libertà non giustifica tutto. Ci sono dei limiti da rispettare. Considera queste parole, Aurora. Sei affascinante, ma così ti perdi». In risposta, Aurora ha usato la famosa gif della scimmietta dei Simpson e ha rilanciato con un altro scatto provocatorio, questa volta di Mahmood. «Anche lui è fuori luogo», ha replicato con sarcasmo.